Il progetto Policoro nasce da un'idea della Chiesa che vuole farsi vicino ai giovani che cercano il lavoro e li assiste nella progettazione dell'imprenditoria giovanile. E quindi è stato organizzato questo incontro in cui insieme alla spiegazione di questo progetto vengono anche presentate un paio di iniziative che sono presenti nel nostro territorio. Prego. L'obiettivo di questo incontro è parlare in come creativamente si può rinnovare anche il giovane nell'ambito del lavoro non pensando semplicemente a un impegno solo come dipendente ma anche in vista della possibilità di realizzare una copia di emprenditoriali. Ecco il progetto Policoro della Dioce di Arezzo Ortona Sansepolcro non dà solo beni ma anche setrizzi accompagnando passo dopo passo allo sviluppo dall'idea al progetto. Grazie.